Il 2023 sicuramente è un anno probabilmente ancora più intenso del 22 per una serie di motivi è vero che non abbiamo più le concessioni ma sinceramente non sono troppo spaventato da questo perché abbiamo negli anni costruito la nostra forza un passo alla volta e ci siamo strutturati per quello è un anno in cui avremo più gare e avremo anche gare doppie in più li faremo con un team satellite quindi non raddoppiamo quadruplichiamo gli sforzi sapremo solamente a fine anno veramente cosa ha significato a livello di sforzo di squadra e soprattutto di azienda ma onestamente sono molto ottimista visto le basi che abbiamo costruito Lo scenario 2023 sicuramente è molto più eccitante rispetto a quello del 22 molto più impegnativo ma è una sfida molto più grande ci sarà tanto più pressione ma non è quello che ci spaventa credo che cominceremo l'anno affronteremo l'anno con ancora più grinta se possibile rispetto a quella dell'anno passato definire i quattro piloti in una sola parola beh con a race ormai il capitano si sa maverick è il vero top gun quindi genius regolatezza interessante anche conoscere i nuovi piloti con miguel mi viene da dire il dottore molto completo molto pulito e raul ma forse il più matto di tutti più crazy il target per il 2023 è semplicemente far meglio del 2022 abbiamo fatto terzi dobbiamo fare secondi dobbiamo fare in modo di alzare la sticella target molto semplice ovvio che se mi dice vuoi vincere il mondiale sì ma non credo che sia ancora il momento anche perché durante il 2023 sfrutteremo il fatto di avere più dati anche da altri piloti sulla caratteristica della nostra moto e questo ci farà crescere durante l'anno sicuramente ma anche in futuro ovviamente avere un team satellite avere più piloti è un'opportunità per arricchirsi in generale personalmente e come squadra e come azienda sinceramente non vedo l'ora di cominciare abbiamo già cominciato il primo salto di Sepang e devo dire che è stata già una bellissima esperienza sarà sicuramente più impegnativo ma alla fine non credo che che sarà questo il limite credo che la passione la voglia di far bene e la voglia di vincere non ci farà sentire la fatica beh è stato divertente lo scorso anno già diciamo che avevamo messo anche io dei panni non proprio miei quest'anno abbiamo esagerato un po' di più sono già curioso di vedere cosa potremo inventare per l'anno prossimo ma divertente dai crediamo di aver fatto molti compiti a casa i numeri che abbiamo registrato ad oggi ci dicono che sembrano essere stati svolti bene e anche le prime prove in pista sembrano confermare questo la situazione tecnica è diversa anche perché abbiamo un team satellite da seguire e da supportare e da cui ricavare informazioni importanti quindi credo di sì credo che siamo partiti bene a aprilia ha investito molto in aerodinamica negli ultimi anni e si vede dai risultati e dalla trasformazione continua della nostra moto in questi ultimi anni la moto 2023 è un'ulteriore evoluzione e sicuramente vedrete cose molto interessanti durante la stagione eccetto il sottoscritto questo è un ambiente molto giovane è molto stimolante c'è una continua generazione di idee in tutti i campi e questo è sicuramente il principale ingrediente che ha portato aprilia a livello di competitività attuale alla fine della stagione 2023 sarei felice se avessimo lottato per la vittoria in diverse gare possibilmente per il campionato è stato divertente sdrammatizzare quella che comunque è la tensione di questi momenti è stato un gioco simpatico divertente mi è piaciuto secondo me sono evoluto tanto nel senso sono molto più maturo conosco molto di più aprilia questo mi dà molto anche tranquillità e alla stessa volta pressione pressione perché so quanto è importante per quest'azienda stare davanti e lottare per per delle cose importanti e questo è pressione ma la stessa volta sono tranquillo e maturo perché conosco tanto e questo mi aiuta molto a livello di preparazione fisica non ho cambiato sinceramente niente per le sprint race penso che sto sto preparato è vero che durante i weekend si deve lavorare diversamente preso anche un fisioterapista per aiutarmi a essere arrivare più preparato la domenica perché il sabato sarà molto più duro fisicamente però dobbiamo iniziare a vedere vedere com'è com'è perché tutti abbiamo tante tante incognite per me la constanza sempre sempre paga sempre meglio però è vero che avendo molto più gare perché con le sprint race avremo tante più gare hai anche opzioni di rischiare un pelo di più perché se fai degli errori ai più più punti più punti in gioco la gente ci conosce tanto in pista ci vede in pista vedono i quali fine vedranno le sprint race vedranno tutto quello però il nostro mondo è un mondo mondo diverso un mondo bello si viaggia tanto per il mondo e questo ovviamente la gente non lo conosce tanto e mi ha venuto in mente far vedere conoscere tutta questa parte alla gente e ovviamente sono nell'ultima parte della mia carriera e mi è semblato una cosa divertente e bella fare Aprilia Racing ha evoluto e ha cresciuto tantissimo da quando io sono arrivato al 2017 è una responsabilità grande essere un capitano devi anche anche fare il capitano no no non solo che ti chiamano il capitano ma devi anche attuare come come un capitano devi devi prenderti la responsabilità io sono preparato e penso che sarà anche un'altra stagione buona in inverno sempre lavoro lavoro in moto sempre faccio motocross è una parte molto importante per me dalla preparazione fisica è chiaro che lo faccio quando non sono in stagione perché è molto importante non farci male è una cosa che mi aiuta a essere pronto fisicamente soprattutto una cosa che che posso che posso gaudire tanto l'anno scorso al 2022 è stato un anno per imparare un anno per imparare la moto per imparare la squadra l'Aprilia e soprattutto per imparare anche da me stesso quindi molto felice molto contento con il rendimento che abbiamo fatto l'anno scorso e soprattutto tutto quello che abbiamo imparato per quest'anno quello che ha migliorato di più ha stato la sensibilità con con il gas è molto importante per me perché io guido tanto con con la ruota di dietro quindi farla scivolare avere più la moto in mano mi da mi da tanto gioco soprattutto dopo quando la guido quindi quello è stato un miglioramento molto importante per me è chiaro che sarà molto più esigente no questa queste due gare ma comunque penso che sarà molto importante anche per i fan anche per il team sempre puoi provare un po di più la moto puoi vedere come lavora sulla gara secondo me sarà buono anche per migliorare la moto di cara domenica sì la mia vita è azione quindi se non se non ce l'ho sono annoiato quindi devo devo sempre stare in azione facendo delle cose la nuova priglia rsgp 2023 è andata bene sono stati dei test positivi e la moto è uno step in più rispetto alla 2022 e siamo contenti di come è andato il test io credo che ci sia ancora margine di per migliorarla di sviluppo la moto gp è una categoria estremamente competitiva e quindi abbiamo comunque nel taschino altre soluzioni che proveremo nei prossimi test per migliorare ancora di più la moto avendo perso le concessioni non ho cambiato il mio modo di allenarmi comunque mi alleno sempre come dovessi correre perché comunque sono pronto nel caso anche a correre diciamo che durante l'inverno comunque ho rimosso due placche osse che aveva la clavicola al malleolo però sto sto bene ora finalmente e non vedo l'ora di iniziare l'aria dove c'è stato un miglioramento più importante sulle rs gp 23 sicuramente il motore abbiamo fatto diversi passi dalla mia prima volta che ho guidato questa moto e il motore è cresciuto tanto e sicuramente dovrà continuare a crescere però comunque è migliorato molto con il test team siamo riusciti e assieme anche tutto il reparto corse di aprile a creare un grande gruppo di lavoro quando arrivano componenti nuovi durante i test ci mettiamo lì a testa bassa a lavorare anche quando faccio le wildcard proviamo pezzi nuovi per per alesh e maverick chiaramente il laudatore è un ruolo differente è difficile da da pilota a volte mettere in secondo piano la performance però fa parte del lavoro e sono felice che la moto è cresciuta tanto in questi anni che sono in questo in questo ruolo